Ok, in questo lento dovrò cominciare a pensare dove metterla la vite, dove metterla per essere più sicuro, dove metterla per essere più comodo, e già in questo lento dovrò crearmi anche qualcosa per mettere questa vite. Allora, io suppongo di mettere una pite qua, ovviamente, mi creo già una piccola tasca. Trovo un punto buono, sicuro, delle picotte, e creo un triangolo. Cioè, vado sotto, il baricentro sotto la picca che tiene. Questa casa la posso anche cambiare in mano, vedete? Trovo la vite dall'altra parte, ve lo preparo. Mi sono creato questa piccola tasca qua, la vite entra bene. Finisco di avvitarla, mi passo la corda, e ripasso. Allora... Spermo una...